ciao sono william bisacchi di blog bisacchi punto it oggi parliamo del tempo ho mostrato il calendario perché appunto parliamo del tempo ovvero dei tempi di consegna una delle maggiori controversie che c'è tra i clienti e rivenditori disonesti o gli artigiani che non rispettano quanto patuito perché succede questo succede questo a volte la colpa del cliente che si fa abbindolare da rivenditore se il venditore ti dice che ti consegna le finestre in una settimana io qualche dubbio me lo farei e il primo e mi chiedo ma c'è questo qua non ha nulla da fare e il secondo c'è tempi tecnici la finestra è costruita su misura non abbiamo fuori standard non è una televisione io vado qui di fronte all'unie euro per la televisione chi c'è a 40 50 100 pollici se non c'è lì due giorni arriva e me la dà la finestra viene costruita sulle misure su misura dalla progettata il vetro e le tipologie cioè è impossibile cioè quindi attenzione avere anche poca preparazione da questo da questo punto di vista anche per questo ho fatto questo video diciamo che per consegnare delle finestre fatte su misura mediamente occorrono dalle otto le dieci settimane a volte può succedere colori standard o lavori non particolarmente complicati che ci possa volere meno ma se uno ti dice una settimana da 8 10 arrivare a una e tanta roba probabilmente sono finestre dalla polonia che lì le consegnano in due giorni perché hanno delle fabbriche enormi eccetera eccetera però c'è anche la progettazione un minimo di misure un minimo di ragionamento una volta che ha acquisito il lavoro dovrà anche farteli no io ricordo di aver perso tantissimi lavori perché sono una persona che gli piace dormire seriamente alla notte quindi se dico una cosa è quella se dico otto dieci settimane sono otto dieci settimane ma sono quelle perché perché è un sistema di lavoro sistema bisacchi prevede delle checklist una volta firmato il contratto il tempo si fa le misure una volta fatto le misure tot tempo si fa il progetto dei nodi di posa una volta progettato uno di posa è approvato vengono ordinati materiali poi materiali vengono prodotti perché noi finesse le produciamo internamente e poi viene posato è tutto scandito all'interno dei tempi ben definiti ci avvaliamo anche con un software che ci aiuta a controllare le varie scadenze se tu ti dimentichi stai pur certo che noi non ci dimentichiamo perché abbiamo cuore che le consegne vengono fatte in tempo e tutto questo funziona ed è testato su oltre 3.000 clienti quindi come ti dicevo mi è successo di perdere tanti lavori tanti tanti no però abbastanza diciamo così perché il cliente si è affidato del revenditore che gli ha detto magari te le consegno in 30 giorni per me era impossibile poi cosa succede se quel cliente ha un cantiere che lo conosco che magari è la io passo perché mi piace controllare sono una persona che gli piace andare a vedere le cose veramente come sono andate quindi passa un mese le finestre non ci sono passa un mese e mezzo le finestre non ci sono passano due mesi e a volte anche dopo due mesi non ho visto le finestre io il lavoro l'ho perso il cliente è scontento probabilmente gli farà anche una brutta pubblicità però il lavoro è perso ma se uno non dorme la notte non può dire una bugia come fanno in molti per poter prendere lavoro sei d'accordo quindi tempi di consegna chiari affidarsi ad un'azienda che rispetta quanto viene detto l'azienda come la visacchi che ha un sistema di lavoro azienda che ha 170 persone che testimoniano che quello che dico è vero se tu vuoi vedere su facebook su google su pagine gialle su house ad oggi sono 170 se non anche di più e molte di quelle recensioni oltre alla pulizia al contratto che è stato rispettato parla anche dei tempi che sono stati rispettati ciao e al prossimo video e non ti fidare di chi dice delle cose capate in aria